Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege voglio mostrarvi un glitch in banca. Un glitch che funge, diciamo, in un certo qual senso da spot, per eliminare tutti coloro che provengono da questa finestra. Tutto quello che dovete fare è raggiungere questa posizione, abbassarvi, dare un colpo qui per danneggiare la stampante. Ora, forzatevi un po' per spingervi in avanti, fino a quando poi resterete incastrati qui dentro. Se smanettate con il controller, in questo modo, con mouse e tastiera, finirete addirittura nella colonna. Se non riuscite a farlo, potete sempre ricorrere a questo trucchetto. Quindi, tutto quello che dovete fare è, diciamo, una volta che vi siete incastrati qui dentro, è mirare fino a quando non vi ritroverete praticamente in cima alla stampante. Vedete? Una volta che siete in cima, potete prendere di mira sia i giocatori che vengono da qui, che quelli che vengono dalle altre direzioni. Ma naturalmente, in questo modo, siete ben scoperti. Quindi potete sempre tornare giù per poter poi nascondervi e quindi colpire i giocatori al meglio.